Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un nuovo solo money glitch ragazzi vado a farlo con questo veicolo per farvi capire che è registrato in questo momento allora in primis dovete avere il respawn in un garage, in quello che andrete a fare il glitch e ovviamente io ho messo il respawn in quel garage che è quello in cui andrò a fare il glitch ripeto, questa auto è solamente a scopo dimostrativo, non duplicate quest'auto anche perché ne potrete vendere solamente una e poi avrete il blocco potete vendere solo l'originale allora una volta fatto questo, che cosa dovete fare? dovete cospargere l'auto di benzina e dovete fare una piccola traccia di benzina come faccio io ragazzi per quanto riguarda le duplicazioni, mi raccomando duplicate LG Retro Custom che abbiano la targa personalizzata quindi torniamo al glitch cospargere abbondantemente l'auto di benzina e una volta che avete cosparso l'auto di benzina andate in prossimità della base operativa ovviamente e dovete cospargere, dovete fare una bella puzza di benzina anche vicino alla base operativa ragazzi come andremo a vedere io qui sto mettendo abbondante benzina sull'auto vi ricordo ragazzi, questa è l'auto che è uscita oggi è solo per dimostrarvi che il glitch funziona e una volta che avete cosparso il punto come state vedendo avete fatto una bella striscia che vi allontana un pochino dalla macchina una sorta di miccia ragazzi come sto facendo io fate una bella puzza di benzina e dopo che avete fatto ciò salite in auto e sparate alla miccia adesso andremo a fare mi raccomando non fate terminare mai la tanica di benzina perché sennò dovrete tornare a ricomprarla quindi dopodiché spariamo alla miccia e aspettiamo di prendere fuoco ragazzi la miccia prenderà fuoco noi andremo a malti base operativa piena quando sentiremo che avremo preso bene 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 fuoco premiamo x per accettare il messaggio e ci suicidiamo come vedete l'auto scompare sotto il nostro culo e noi moriamo lì insomma a questo punto l'unica cosa che dovete fare io qui mi sono un po' impicciato però conta poco insomma è fare start online e dovete fare trova nuova sessione ragazzi è semplicissimo quindi se avete il respawn nel garage in cui state facendo il glitch vi ritroverete nel garage in cui state facendo il glitch insomma come nel mio caso io mi ritroverò nel garage piccolino quando ritornerò in sessione mi chiederà di fare una sostituzione e se avete le LGRH8 dentro quel garage potete fare la sostituzione il glitch è semplicissimo detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti